In questo filmato illustrerò una nuova prestazione aggiunta nella versione 5.04 del software CoreMap. Questa prestazione riguarda i comandi per tracciare sulla mappa georeferenziata allineamenti, intersezioni, trilaterazioni e contorni. Come riportato nella scheda tecnica che stiamo vedendo in questo momento a video, queste utilità permettono di ricostruire sulla mappa georeferenziata gli atti di aggiornamento catastale precedenti alla circolare 288. CoreMap garantisce questa ricostruzione mantenendo rigide le misure presenti in tali atti. Questo significa che ad esempio le misure riportate per i punti introdotti mediante allineamenti verranno rigorosamente rispettate senza applicare a tali punti la variazione di scala sempre esistente tra la mappa e la realtà desunta tramite rilievo sul posto. La nuova potenzialità aggiunta in CoreMap 5.04 è che mentre prima questi comandi erano disponibili solo sulla georeferenziazione parametrica, ora sono invece disponibili su tutte le georeferenziazioni incluse anche la catastale e la baricentrica nelle quali è stata aggiunta la possibilità di inserire punti di dettaglio come abbiamo illustrato in un filmato dedicato a queste due tecniche. In un altro filmato a parte vedremo invece la nuova funzionalità per introdurre trilaterazioni anch'essa introdotta in CoreMap versione 5.04. La possibilità di poter utilizzare allineamenti, intersezioni, trilaterazioni e contorni su tutte le georeferenziazioni permette di ricostruire atti catastali anche nelle tecniche basate sulla calibrazione diretta mappa rilievo come ad esempio la georeferenziazione trilaterale. Vediamo quindi un breve esempio di come questi comandi vanno applicati in CoreMap su georeferenziazioni del tipo appena accennato come la trilaterale. Come possiamo notare infatti questi comandi allineamento, intersezione, trilaterazione e contorno sono presenti in questa tecnica così come in tutte le altre presenti su CoreMap. omografica, elastica, parametrica e anche come dicevo prima nella baricentrica e nella catastale in quanto anche queste due georeferenziazioni permettono attualmente di andare a gestire punti di mappa da calcolare. Torniamo sulla trilaterale e da questa scheda andiamo ad analizzare un frazionamento del 1980 cioè in epoca antecedente all'entrata in vigore della circolare 288. Come possiamo vedere si tratta quindi di un classico frazionamento eseguito con misure progressive su allineamenti. Andiamo quindi a ricostruire a titolo di esempio l'allineamento appoggiato sulla linea di mappa a nord delle particelle originarie 19 e 20 di mappa. Per far questo attiviamo il comando allineamento, ci appare una finestra di help che ci indica di cliccare il punto di origine e il punto di orientamento dell'allineamento stesso, cosa che andiamo a fare selezionando con lo snap il punto di mappa 3 e il punto di mappa 1 che avevamo inserito precedentemente in mappa. Fatto questo ci appare la tabella di core map per l'inserimento degli allineamenti che ci indica la distanza risultante in mappa tra i due punti dopo averli sottoposti a georeferenziazione trilaterale. Come possiamo notare la distanza è di 186 metri e 64 centimetri mentre nel frazionamento sono indicati 186 metri e 20 centimetri. La differenza può dipendere ovviamente dalla deformazione della mappa ma può dipendere anche dalla scassa precisione che ha impiegato il tecnico redattore del frazionamento. In ogni caso dovendo noi ricostruire le misure di quel tecnico andiamo a riportare la misura di 186 e 20 in questa cella relativa alle progressive misurate. In questo modo potremo sempre avere l'esatta percezione della differenza tra le misure inserite dal tecnico e quelle risultanti in mappa. Clicchiamo quindi sul bottone aggiungi sopra che andrà ad aggiungere una riga sopra a quella in cui eravamo posizionati. Su questa riga per il nuovo punto 148 numerato progressivamente dal programma andiamo ad inserire la misura letta dal lato di frazionamento, in questo caso 27,50. E come accennavo possiamo vedere nella colonna progressiva mappa la corrispondente misura risultante invece dalla mappa georeferenziata. Aggiungiamo quindi una nuova riga e andiamo a introdurre la seconda misura di 98,70. Ed infine ripetiamo nuovamente l'operazione introducendo la terza misura di 155 metri esatti. Come possiamo notare da questo riquadro CoreMap ci permette di fare la scelta se mantenere rigide le misure introdotte dal tecnico del frazionamento oppure compensarle su mappa. Ci consente inoltre di definire qual è il punto di riferimento dal quale partire nel caso decidessimo di mantenere rigide le misure del frazionamento. In questo caso ad esempio questo significa che avendo posto il punto di riferimento sul primo punto lo scompenso tra le misure progressive del tecnico e quelle risultanti della mappa andrà a scaricarsi completamente nell'ultima distanza, vale a dire nella chiusura dell'allineamento stesso. Viceversa avremmo potuto fissare il punto di riferimento proprio su tale punto di chiusura nel qual caso le misure sarebbero mantenute rigide a partire da tale punto andando all'indietro e scaricando quindi lo scompenso sulla prima distanza. Ma potremmo anche fissare il punto di riferimento su un punto intermedio qualora trovassimo sul posto una evidente materializzazione di tale punto della quale siamo certi che si sia mantenuta nel tempo. Per una spiegazione più approfondita di questi concetti vi consiglio di visionare il filmato Riconfinazioni di frazionamenti anticecolare 288 del software CoreMap che potrete facilmente reperire su YouTube. Torniamo nel nostro esempio sul CoreMap, ripristiniamo il punto di riferimento sul punto di origine dell'allineamento e confermiamo con OK. Vedremo quindi apparire i punti generati dall'allineamento direttamente in mappa mediante queste croci a X di colore blu. Da questa operazione diventa interessante ad esempio andare a verificare la discordanza tra il punto di mappa che avevamo in precedenza cliccato sulla mappa georeferenziata ed il punto 149 introdotto dall'allineamento mediante la misura presa dal lato. Possiamo infatti notare che la distanza è di meno di un pixel e questo può far in generale il sospetto che questo tecnico l'abbia misurata direttamente sulla mappa. Ma possiamo anche procedere ad ulteriori verifiche sfruttando ad esempio il comando intersezione. Nel frazionamento vediamo ad esempio che il tecnico ha inteso assegnare la misura di 155 metri al prolungamento del punto di mappa corrispondente al vertice tra la particella 20 e il ciglio strada e quest'altro punto sempre del ciglio strada. Questi due punti prelevati sulla mappa sono esattamente questi che vediamo ingranditi e contrassegnati dal numero 11 e dal numero 15. Per verificare la corrispondenza tra questo allineamento e la sua chiusura sul punto dell'allineamento in alto corrispondente alla progressiva 155 metri possiamo come accennavo sfruttare il comando intersezione. Attivato il comando ci appare infatti questa finestra di help che ci indica semplicemente di andare a cliccare i primi due punti che formano la prima linea da intersecare e di secondi due punti che formano la seconda linea. Procediamo quindi cliccando il punto 11 e il punto 15 per formare il primo allineamento e ci riportiamo poi nell'allineamento a nord dove andremo a cliccare nuovamente il punto 3 e il punto 1 dell'allineamento a nord del frazionamento. Fatto questo ci appare questa finestra che ci suggerisce il nome progressivo da dare al punto di intersezione. Lo confermiamo con ok e vedremo quindi apparire in colore azzurro le due linee ed il loro punto di intersezione. Se andiamo ad ingrandirlo possiamo quindi anche notare che tale punto non coincide con il punto 150 che avevamo inserito mediante allineamento alla progressiva 155 riportata nel frazionamento. possiamo quindi anche misurare la distanza tra i due punti mediante il comando distanza di core map. Clicchiamo quindi questo comando e andiamo a selezionare con lo snap il punto 151 e il punto 150 e vedremo nella barra di stato in basso che la distanza è di oltre un metro. A questo punto sorge quindi il dubbio su quale di questi due punti tenere validi ai fini del nostro lavoro cioè se dare la prevalenza all'allineamento costruito sui due punti del ciglio strada o se dare invece le priorità alla misura riportata nell'allineamento a nord dei 155 metri. In questo caso risulta evidente ovviamente dare la preferenza alla misura numerica visto che questo allineamento è appoggiato su due punti di un ciglio strada ma ovviamente queste decisioni non sono sempre così scontate e vanno quindi sottoposte ad una attenta disamina. Per queste considerazioni vi rimando sempre al filmato già citato in precedenza dal titolo riconfinazioni di frazionamenti anti circolare 288 nella playlist youtube dedicata alla parte riconfinazioni del software core map. Ma torniamo ora sul programma e andiamo a produrre l'elaborato grafico di questo lavoro. Andiamo cioè a creare il disegno DXF sul CAD per verificare la bontà del lavoro fin qui svolto. Attiviamo quindi il comando disegno DXF, confermiamo il nome del file DXF pari al nome del file RAST della mappa e premiamo il bottone salva. Ci esce questa comoda finestra che ci permette anche di impostare i parametri di creazione DXF stesso come ad esempio l'offset, l'altezza dei testi, lo stile del punto, la dimensione del punto e i parametri relativi alle quotature. Confermiamo questi parametri e vedremo apparire l'elaborazione di costruzione del file DXF. Al termine ci appare il messaggio di avvenuta creazione del file DXF con successo che andiamo quindi ad aprire direttamente mediante questa opzione apri file. Viene così lanciato il CAD abbinato ai file DXF nel quale viene aperta direttamente la mappa georeferenziata. Possiamo quindi ora verificare quanto dicevo all'inizio di questo filmato. Vale a dire che le misure dell'allineamento che abbiamo costruito in CoreMap sono rimaste esattamente rigide così come sono riportate nell'atto di aggiornamento stesso. Per verificarlo andiamo ad eseguire con il comando contature la distanza tra il punto di mappa 3 ed il punto di mappa 148 e possiamo notare come questa distanza si è rimasta esattamente 27 metri e 50 come avevamo desunto dal frazionamento. Ripetiamo l'operazione anche col punto di progressiva 155 che ricordo essere il punto con la crocetta blu 150 ricostruito per allineamenti. Grazie.